Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su One Piece Bounty Rush Oggi sono uscite le nuove informazioni del nuovo Bounty Festival in arrivo domani Perché sì signori, abbiamo Chopper direttamente dalla saga degli Uomini Pesce e abbiamo Nico Roby direttamente da Annie Slobby Allora, iniziamo prima con il vedere Chopper Chopper, ruolo attaccante, colore blu, un potente attaccante che può rompere le difese dell'avversario con un potente colpo che rafforzano la sua trasformazione in mostro la sua skill, Kouuko Palm, farà danno indipendentemente dalla riduzione del danno del Mico Fate conto che questo comunque è più tradotto dal giapponese quindi ci sta che magari ci possa essere qualche accaccio però comunque domani usciranno i tratti completi e sicuramente vedremo meglio il PG Adesso focalizziamoci un attimo sul gameplay Che direi signori, questo qua è Chopper? Allora, sicuramente essendo un attaccante blu avrà problemi nel meta attuale considerando la grandissima quantità di Roger e Oden che ci sono però sicuramente quando ci sarà un meta di più rossi magari uscirà un extreme rosso, sicuramente i blu rimergeranno però in generale, a parte il colore, comunque sembra promettere molto bene come attaccante vediamo, cioè nel senso dipende da molti aspetti ripeto, i tratti saranno quelli che daranno la nostra conferma al 100% però vi ricordo che comunque di PG grossi e lenti abbiamo per dire barba bianca attaccante verde cioè fa degli ottimi danni, si prende degli ottimi boost quando si killano gli avversari e ti trovi attillati gli alleati però ripeto, con gli attacchi è veramente molto lento in questa cosa lo penalizza secondo me però comunque domani vedremo con i tratti completi di Chopper e sapremo dare sicuramente un giudizio migliore ripeto, il colore purtroppo non è dalla sua parte andiamo a Nico Robin ruolo defender colore rosso un difessore che resiste costantemente agli attacchi dei nemici le skills 20, Willed, Bloom e Calendula ridurranno notevolmente i danni ricevuti dai nemici mentre la skill è attiva e proteggeranno il tesoro ok, andiamo subito signori Robin, allora le skill devo dire che sinceramente mi piacciono perché c'è la prima che comunque fa una specie di scudo ed è tantissima roba poi ragazzi considerate anche il fatto che è una defender di colore rosso quindi molto buona per un meta pieno di Oden e Roger quindi sicuramente questa cosa lo avvantaggia rispetto ad un Chopper c'è poco da fare è inutile se ci prendiamo in giro poi anche la seconda skill che avrà sicuramente il knockback molto buona perché giustamente il defender serve il knockback soprattutto per uno come Oden che dire ragazzi allora i PG comunque dal video sembrano promettere bene Robin pure Robin sono veramente curioso di leggere i tratti completi perché secondo me può veramente dire la sua in questo meta però ovviamente ripeto si ritorna sempre al discorso finché non usciranno i tratti completi non si sa io vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun altro video scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo di questi due personaggi vi ricordo di iscrivervi al canale News dove postiamo tutte le novità in tempo reale su Bounty Rush quindi spiatevi che non vi perdete nulla e detto ciò noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao